Pasquale Foggia, intanto un piacere conoscerti, ci diamo del tuo massimo rispetto, ci mancherebbe, nuovo direttore sportivo del Pescara, tutto in pochissime ore. Sì, assolutamente, è nato tutto nella giornata di ieri, ci siamo sentiti col Presidente ed è stata molto veloce, ma credo sia giusto così, perché Pescara per accettarla basta pochissimo. Che squadra ha in mente, naturalmente con l'idea di Baldini, Pasquale Foggia? Una squadra che diverta, perché Pescara ha bisogno di questo, vive di questo, quindi sicuramente è una squadra che faccia entusiasmare la gente, che è quello che ci auguriamo tutti. Che sfida è per Pasquale Foggia che, diciamo, ha passato un anno più o meno, sabbatico potremmo definirlo così, dopo gli ottimi risultati di Benevento, perché vorrei ricordare la promozione in Serie A, stradominando il campionato di Serie B nel 2019-2020, l'unico neo probabilmente il 4-0 all'Adriatide. Sì, che neanche a farlo apposta, poi è la partita che ha dato in là alla nostra vittoria del campionato ai tempi di Benevento. Oggi io sono strafelice perché ricopro un ruolo in una società che ha poco a che vedere con questa categoria. Non lo dico per essere ruffiano perché non è da me, per chi mi conosce, ma Pescara merita rispetto, merita sicuramente di vivere settimane importanti. E l'augurio mio, ma credo di tutti, è quello di vedere la gente che goda di uno spettacolo degno. Ecco, bisognerebbe ricucire lo strappo, no? Perché è chiaro, insomma, lo sai perfettamente, c'è una contestazione aspera nei confronti del Presidente. Ti preoccupa questo aspetto oppure sei abituato? No, altrimenti non avrei accettato. Fa parte tutto di questo mondo che, insomma, viviamo da sempre, quindi uno mette in preventivo tutto. L'unica medicina poi è la domenica, quella fa dimenticare o, insomma, tirar fuori quella rabbia che oggi si vede, no? Vivendola dall'esterno, però dipende da noi. Questo, come ho detto prima, fa parte tutto di un percorso. Sarà un mix di giovani e di calciatori esperti, più o meno? Ma quella è la filosofia da sempre del Pescara, quindi la linea guida sarà questa. È ovvio che sappiamo che bisognerà fare delle operazioni, soprattutto dove oggi c'è mancanza di ruolo. Ma con la calma giusta perché non bisogna andare di fretta. Bisogna valutare tutti i giocatori che si hanno oggi a disposizione per poi, insomma, fare le scelte giuste e sbagliare il meno possibile. C'è un Pasquale Foggia in questo organico, mi riferisco a quando giocava. Merola lo ricorda un po' Pasquale Foggia? Assolutamente, ma è un giocatore forte, ce ne sono altri anche in altri ruoli e sono convinto che ci sono giocatori che possono ambire ad avere una carriera importante. Tutto questo passa da loro, ma soprattutto da noi che dobbiamo indirizzarli nel modo giusto. Ricordiamo che Pasquale Foggia era un fantasista di grandissime qualità, piede mancino, esterno, convergeva, faceva impazzire la difesa avversaria. Io ricordo 16 anni, 17 anni, con la maglia del Treviso nel 2001, 1-0 contro il Pescara, entrò a 30 minuti della fine al posto di Marangon e mise a soquadro la difesa bianca-azzurra. Poi il Treviso si impose con un gol di Tommaso Rocchi. No, 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 devo essere sincero, non ho rimpianti perché sono partito dal nulla. Ho avuto la fortuna di arrivare in nazionale, di confrontarmi con una Serie A quella vera, quindi sono strafelice di quello che ho fatto e ho avuto la serenità poi a 30 anni di smettere per scelta mia, quindi neanche forzata. Se ti dico invece Carrizzo-Flocca-Rifoggia, estate 2012, il Pescara aveva appena centrato una promozione in Serie A irripetibile con Zeman in panchina, che cosa ti viene da dire? Che sono arrivato con 12 anni di ritardo. E quindi va bene così lo stesso. Assolutamente. Il dopo Tare alla Lazio si parlava di Foggia, questo lo possiamo confermare? Sì, perché con Lodito ho un ottimo rapporto, per me ha rappresentato tanto, ci stimiamo, però è giusto che faccia il mio percorso, ho ancora tanto da imparare e poi un domani siamo ancora giù. Grazie. 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 Grazie.